Signori buongiorno, aspetto solo qualche secondo che le serie si possano poggiare, come in le foglie, non facciamo i poeti che non è il caso, perché no? Bravo, facciamo, ma non sono molto... l'epsidio rolla fa capire che sono un tecnico, quello delle lavatrici, come dice mia madre. Che lavoro fai? Un tecnico. Posso iniziare? Qualcuno dirà? Comincio. Allora, intanto buongiorno, benvenuti, sono Aglio Gullo e volevo fare soltanto un piccolissimo e breve saluto, non voglio rubare tempo in cose più sensate che sono quelle che diremo subito dopo, ma intanto in quanto rappresentante di questo Dipartimento ci lavoro da un po' di anni in varie vesti, ora forse la veste è quella che più mi piace, ci tenevo a ringraziarvi per la presenza e per la partecipazione. Questo argomento è un argomento che ho spesso io stesso, che sono un rude informatico, considerato un aspetto di zucchero sintattico, come si diceva a Pisa negli anni Ottanta e guardavo più la torta che la fuffa e mi sembrava fuffa. Ammetto di aver spesso sbagliato, questa è una di quelle in cui ho sbagliato, ma fortunatamente in questa fase sia l'attenzione rispetto alle esigenze dei nostri utenti, utenti è un brutto termine, ma uso un termine che è comprensibile a tutti e che vuol dire tutto quello che voi avete capito, sia la loro inclusione nei processi decisionali, hanno cambiato un pochino le possibilità e l'efficacia di azione di questo tipo, quindi la centralità che se andate a trovare sulla letteratura, basta usare Google, è presente da 20 anni, per 15 anni è stato un argomento da slide o poco più, non che oggi sia diventato argomento da cemento armato, però comincia a entrare dentro, anche come Dipartimento in più di un'azione stiamo provando a contaminarci, dove il contaminare in questo caso è positivo, con le esigenze dei destinatari delle nostre azioni e a coinvolgerli in più di un modo, quindi riteniamo e quindi io ritengo non soltanto opportuno partecipare, spero di dire cose sensate subito dopo, ma che ci sia il più ampio coinvolgimento possibile e che si possa in qualche modo spingere le amministrazioni ad aprire almeno il cervello, poi vediamo che cos'altro. Sono moltissimi i partner di questo progetto che però chiederei al nostro ottimo Emilio Simonetti di presentare uno per uno perché è più bravo di me, io ho visto una valanga di nomi e termini e già sbaglierei il secondo perché io l'istituto di comunicazione lo chiamo in un altro modo del MISE, però lascio qui a Rita di parlare in qualità di partner stretto del Dipartimento, vi do di nuovo il benvenuto e ci vediamo tra poco, grazie. Grazie, buongiorno a tutti, grazie per essere così numerosi, siamo in un'altra occasione nella quale con funzione pubblica, con i colleghi stiamo mettendo forse un'altra buona pratica, oltre che buone interazioni in sostanza per il servizio o perlomeno per i risultati che intendiamo acquisire. È una delle tappe più importanti questo convegno della nostra collaborazione, come dicevo. Innanzitutto si scusa il segretario generale del nostro ministero, il dottor Napoletano, per non essere potuto venire, per un impegno che mi ha comunicato proprio da poco. Questo vuol dire che ci teneva che aveva previsto di poter essere qua, conosce molto bene questa iniziativa e quindi questa è un'iniziativa in sostanza molto importante anche per il Ministero dello Sviluppo Economico. Anche io è solo in questo momento un saluto, potrò dire qualche altra cosa in più dopo. Dico soltanto che quando ci parliamo, quando riusciamo a dare i nuovi risultati, i nuovi servizi e a presentarci anche in un'ottica defesa. Lei è Francesca, le piacciono i fiori, il caffè americano e ama lasciare posti tra i colleghi. Lui è Marco, dice che gli piace Yoda. Francesca e Marco fanno lo stesso lavoro e condividono l'ufficio, ma Francesca lavora con un servizio usabile e Marco non. Musica Usabilità significa più comprensione e immediatezza, ma soprattutto più soddisfazione delle persone. Musica Usabilità Salve a tutti, sono Emilio Simonetti e a me è il compito di introdurre i lavori. Mi dovete scusare per la posizione introduttiva. So che si perde in spontaneità, ma si guadagna in ordine e rigore spositivo. Allora, ci aspetta un'intensa giornata di lavori, come avete potuto vedere dal programma, ma prima fatemi assolvere il compito di ospite e quindi vorrei ringraziare innanzitutto la società Noistre che ha realizzato la clip che avete appena visto. Credo una bella clip, peraltro che introduce molto bene la prima parte della mia relazione. E' geniale il finale, un po' noir, ma che ci fa capire cosa significa il fallimento di un'interazione. Ma ne parleremo meglio. In ogni caso non dite nulla a Bill Gates di quello che è successo nella scena finale. Noistre, peraltro, è reduce dall'organizzazione della giornata mondiale dell'usabilità, che si è svolta ieri e l'altro ieri, e ha offerto gratuitamente la collaborazione con il Dipartimento e il MISE per questa iniziativa. Pensavamo che fosse il modo migliore di iniziare il nostro ragionamento. Gli organizzatori, come sapete, sono il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'Istituto Superiore delle Comunicazioni, e delle Tecnologie dell'Informazione, solitamente viene chiamato ISCOM o ISCTI, il cui direttore, Rita Forzi, è ospite anche della tavola rotonda. Ringrazio il Formez, in particolare, i cui tecnici assicurano la diretta streaming, che dovrebbe essere iniziata da 5 minuti, e la cui commissaria, Marta Leonori, partecipa anche lei al tavola rotonda. Un grazie ad Alessandra Cornero, che a nome del GLU, contribuisce al coordinamento organizzativo del convegno, e un grazie anche a Aurelia Tirelli, che ci accompagnerà con il live tweeting dei lavori del convegno. Ricordo tre cose importanti. La prima è che le sessioni vengono registrate e saranno riportate negli atti finali del convegno. La seconda, previo naturalmente autorizzazione e consenso da parte dei relatori, che potranno correggere o mettere a punto i testi finali. La seconda è che nelle cartelline che vi sono state consegnate, insieme ad altro materiale documentario, trovate tutti i profili di tutti i relatori. Questo spiegherà la sobrietà con cui verranno presentati. La terza cosa importante è che faremo una pausa, che a Fè non è inserita nel programma, alle 11. Dalle 11 alle 11.20, vi prego, siccome si tratterà di spostarsi nel cortile di Palazzo Vidoni, di non attardarvi troppo per non impedire l'inizio puntuale, diciamo, per le 11.30. La seconda sessione è degli esperti. Allora, su un grande cartellone pubblicitario in una piazza di Roma, leggo, i soldi parlano di noi. L'87% delle persone, delle banconote che usiamo tutti i giorni, sono sporche di cocaina. Sulla grande slide, che è invisibile, che vi invito a immaginare in questa sala, leggo, i computer parlano di noi. L'87% delle interfacce che usiamo tutti i giorni, regano tracce di sofferenza. Non di dolore fisico, naturalmente si tratta, ma di dolore cognitivo. Ad infliggerlo, interfacce sofficemente cruenti, con le funzioni della mente coinvolte nell'interazione, memoria, linguaggio, attenzione. Questo disagio accompagna tutti i fallimenti delle nostre più comuni esperienze di navigazione e di accesso ai servizi online. Complessità di linguaggio, menu sovraccarichi, tortuose e improbabili architetture di navigazione, errori e disperata solitudine nella compilazione dei form. Plastico, il marco della clip. Questa comune esperienza non appartiene ad una neutra fenomenologia di rete. Il disagio ha un nome preciso. Si chiama digital divide cognitivo, dove il divide, l'esclusione, non ha a che fare con elementi di divario economico, ma con l'abilità e debolezze della mente umana, comuni a tutti noi. Non a caso Jeff Raskin, il padre del Macintosh, sosteneva che un'interfaccia è a misura d'uomo se è sensibile alle necessità degli esseri umani e rispettosa delle loro fragilità. Queste fragilità sono carenze nelle competenze digitali e linguistiche, nei diversi livelli di memoria delle varietà, nei diversi gradi di scolarizzazione e di conoscenze. Qui è importante riconoscere che l'esito dei fallimenti dovuti alle cattive interfacce si chiama esclusione dall'accesso all'informazione e alla comprensione. È importante riconoscere che tale esclusione, per quanto limitata possa essere, non è solo violazione di un diritto, ma anche gravame economico che pesa sulle pubbliche amministrazioni. Basti considerare l'incremento della pressione sui servizi fisici in cui le esclusioni generalmente si convertono generando una domanda incattivita dall'aspettativa dell'usa del servizio online. Vorrei ora chiedervi di riflettere sul fatto che l'accento che mettiamo sui fallimenti delle cattive interazioni e sui loro effetti ha una grandezza direttamente proporzionale alla crescita esponenziale dei computer e della connettività. Vediamo alcuni dati. La digital audience mi prata in Italia ci dice che nell'ultimo mese di rilevazione sono stati online in media 22,2 milioni di italiani da tablet e smartphone 8,7 milioni da computer e la fonte audio web Nielsen. Ci dice ancora che nel giorno medio hanno navigato 24,4 milioni di italiani da due anni in su per due ore e 24 minuti a persona. Se consideriamo anche i valori percentuali di questo fenomeno sulla popolazione il 14esimo rapporto Censys del marzo scorso sulla comunicazione dice che gli italiani sul web sono il 75,2% della popolazione quasi il 30% in più rispetto al 2007. Lo smartphone in particolare è usato dal 69,6% del totale la popolazione era soltanto del 15% del volito. Luciano Floridi si regalo a te. Luciano Floridi filosofo di Oxford nel suo libro La quarta rivoluzione scusate nel suo libro La quarta rivoluzione sottolinea il fatto che lo sviluppo delle ICT che caratterizza la nostra epoca sia spinto da una potenza di calcolo dei computer sempre più grande a costi decrescenti e per un numero sempre maggiore di persone. Fa notare che nell'enorme sviluppo del potere computazionale delle macchine si accompagna una crescita dirompente della connettività di rete che porterà dai 25 miliardi di dispositivi connessi nel 2015 ai quasi 50 miliardi di dispositivi connessi ad internet nel 2020. Ora è interessante notare che il filosofo nel chiedersi dove porterà l'azione combinata della crescita esponenziale del potere computazionale dei computer e del raddoppio della connettività della rete risponda in modo significativo che questo processo non ci porterà a nulla bensì ad interagire sempre di più sempre più intensamente sempre più estesamente. Non è difficile immaginare quanto la crescersi del flusso di interazioni sia il macro fenomeno sociale che investe anche la diffusione dei servizi pubblici in rete. In questo senso uno dei fattori cruciali dello sviluppo del digitale in Italia è il compito ancora non assolto di porre al centro delle questioni la doppia equazione buone interfacce uguale buone interazioni buone interazioni uguali buoni servizi. E qui che si salda crediamo il punto focale del convegno con il processo di trasformazione digitale del paese. Bene fatta questa premessa questa sorta di lunga premessa vorrei spendere alcune parole sul convegno. Se ci chiediamo quale sia la sua ragione genetica rispondiamo che è quella del progetto PA++ se ci chiediamo quale sia l'orizzonte da cui ha preso le mosse il progetto PA++ segnaliamo che è quello del gruppo di lavoro per l'usabilità il GLU che ha proposto circa un anno e mezzo fa il paradigma metodologico della discount usability all'iniziativa coordinata dall'ISCOM e non a caso sei relatori su otto della seconda sessione sono componenti del GLU sulle tappe dell'azione del GLU che è un gruppo di lavoro unico nel suo genere in ambito PA per via di una straordinaria e fertile ibridazione di provenienze con testi e competenze professionali permettetemi di rimandare al materiale della cartellina in particolare all'infografica se infine ci chiediamo cosa sia e cosa rappresenta il protocollo EGLU prodotto di punta del GLU insieme alle linee guida HCD per gli appalti web cercherò di rispondere spendendo due parole non prima però di aver segnalato i padri storici del GLU e delle linee guida che hanno realizzato questi prodotti cioè Borschi Simone Borschi Maurizio Boscarò Domenico Polimeno e Simon Mastrangelo ci tengo a fare i loro nomi perché come dire il segreto del lavoro del LUC molti di voi ci avranno sentito dire o avranno letto che il protocollo EGLU 2.1 EGLU M è sia un metodo sia una guida per la realizzazione di testi di usabilità semplificati da parte di redattori web non esperti in usabilità in realtà per indicarne in modo più efficace il significato che riveste per le redazioni web che li usano a vari anni dobbiamo dire che prima ancora di un metodo e di una guida il protocollo e le linee guida HCD sono ordigni cognitivi nella lotta alle cattive interazioni che abbiamo visto così potenziate dallo sviluppo delle ICT con essi il contrasto all'esclusione provocata dal digital di livello cognitivo si fa a colpi di insight una granuola di riconfigurazioni dei modi di guardare alla user experience da parte dei team che organizzano i testi con il protocollo non solo liste di criticità delle interfacce ma attitudine al ragionamento abduttivo nell'individuazione dei principi eulistici violati rafforzamento del know-how professionale effetto author esternalità positive persino propensione anegoica come vado dicendo da qualche tempo e sono questi gli effetti generati come granelli di polvere d'oro nel corso della realizzazione dei test gli ordigni cognitivi sono stati accompagnati in questi ultimi quattro anni potete dare uno sguardo all'infografica preparata da Filiberto Montano in collega del PCM componente del GLU da molte iniziative di formazione e addestramento all'uso da parte del Dipartimento dell'ISCOM e del Formez e non hanno causato morti e feriti ma lunghe liste di interventi con CMS d'ordinanza sulle pagine dei siti istituzionali tutto questo reso possibile da quello che Steve Krug ha invitato a praticare e a rendere come uno sport bello da vedere le attività di testing dei siti per questo con buona coscienza potremmo scrivere sempre sulla nostra slide invisibile la frase noi i compiti li stiamo facendo quali compiti quelli indicati alle PA come prioritari nel recente rapporto conclusivo della commissione parlamentare d'inchiesta sul livello di digitalizzazione della PA presieduta da Paolo Coppola rapporto nel quale si dice che per superare i forti ritardi culturali del digitale bisogna puntare sul capitale umano uno valorizzando le competenze professionali digitali interne alle PA due introducendo skill adeguate che permettano di contrattare cito letteralmente contrattare efficacemente con i fornitori e di scrivere bandi di gara che selezionino il servizio più adeguato esattamente ciò a cui abilitano il protocollo i blu e le linee guida hcd come dicevamo sulla slide invisibile c'è scritto noi i compiti li stiamo facendo veniamo ora alle tre sessioni del convegno in due parole possiamo indicarne la caratteristica principale dicendo plurivocità pluriprospettica non è uno scioglilingua e la definizione è stata data anche della letteratura plurivocità pluriprospettica pluralità delle voci e pluralità delle prospettive il cui assunto di fondo tuttavia segnalato dalla preposizione finale per del sottotito del convegno è che nella gestione della qualità dei siti e dei servizi online è cruciale il valore delle tecniche e dei metodi dell'usabilità e della user experience la domanda allora è questa preposizione finale come viene come può e come dovrebbe essere attuata nell'intreccio di compiti e competenze tra committenza pubblica esperti e redattori web nella prima sessione i decisori e amministratori pubblici rispondendo alle domande di Lucio Lamberti docente del Politecnico di Milano ci faranno capire come le PA possono operare nei processi di diffusione digitale per favorire la centralità del cittadino con progetti e investimenti pubblici e soprattutto se questa consapevolezza c'è quanto sia conintessuta dell'idea e del ruolo dell'usabilità e della user experience che giocano in questo processo su un altro versante alla domanda su quale sia la funzione di una buona interfaccia lato progettazione lato valutazione lato percezione cercheranno di rispondere nella seconda sessione gli otto esperti docenti e ricercatori di varie università e componenti del GLU nella terza sessione infine due saranno i protagonisti presentati dal progetto PA++ oltre al laboratorio dell'ISCOM QOS che ovviamente è al centro del progetto PA++ il caschetto con gli elettrodi è GLUBOX due protagonisti sul primo rimando alla sessione pomeridiana e ai ricercatori dell'università di Perugia non li cito tutti perché dovrebbe fare trattato a qualcun altro sul secondo la notizia per tutti i redattori web qui presenti è che presumibilmente nel maggio 2018 dopo una sede che fanno parte del GLU verrà distribuito gratuitamente a tutte le redazioni web un software open source sviluppato dai ricercatori dell'università di Bari che affiancherà il protocollo i GLU e permetterà di condurre in modo automatico le attività di testing ma di questo se ne parlerà molto nella terza sessione bene fatemi concludere facendo notare che l'espressione del titolo del convegno buone interazioni come buone cose o buongiorno non contiene solo un nome e un aggettivo ma anche un auspicio e un augurio sono quelli scritti sulla slide invisibile l'ultima che viene proiettata per dare inizio al convegno buon lavoro e buona interazione a tutti grazie ovviamente do la parola a Lucio Lamberti che modera la tavola rotonda grazie Emilio Simonetti grazie a tutti voi e benvenuti beh devo dire che dal 2012 quando abbiamo iniziato questo lungo percorso con eglue eccetera è stata fatta molta strada sul tema della sensibilizzazione riguardo alle tematiche dell'usabilità della centralità dell'utente nei servizi pubblici come giustamente diceva il dottor Simonetti l'obiettivo di questa prima sessione di lavoro è proprio quella di contestualizzare questo percorso di sensibilizzazione dal punto di vista di chi ha la responsabilità di sviluppare politiche ovviamente il mio ruolo è quello di facilitare uno scambio di idee tra i partecipanti che vado immediatamente a presentare iniziando con Rita Forsi che è direttore dell'istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione del ministero dello sviluppo economico Elio Gullo direttore ufficio per l'innovazione e la digitalizzazione del dipartimento della funzione pubblica Marta Leonori che è commissaria straordinaria di Fornets via Flavia Marzano assessore a Roma semplice per Roma Capitale e Antonio Pone che è direttore centrale dei servizi al cittadino dell'Inps che ringrazio per la loro partecipazione la prima domanda che vorrei rivolgere ai partecipanti è questa il dottor Simonetti nella sua interessante direi magistrale meglio prolusione ci parlava del tema del digital divide cognitivo o non cognitivo lo decideremo ma il principio e il fenomeno per cui abbiamo il 40% della popolazione italiana secondo gli ultimi dati che non accede a internet è il 60% che ci accede in modo sempre più continuativo approfondito interattivo allora la prima domanda che mi viene è per un decisore pubblico quando si tratta di andare ad analizzare il profilo di interazione con l'utente online essendo il tema del digital divide un tema veramente di rischio di distaccamento sociale ci si concentra più sul fornire un servizio stato dell'arte per l'utente più avanzato o un servizio che può essere una chiave d'accesso a internet per l'utente meno avanzato e nel caso in cui come mi immagino la risposta sia un po' tutte e due le cose come andiamo a bilanciare gli sforzi seguirei l'ordine se siete d'accordo dei relatori con cui vi introdotte quindi rivolgerei da prima questa parola a Rita Forse ecco adesso sì sì la domanda è veramente interessante anche per specialmente per chi lavora proprio nella pubblica amministrazione com'è che ci dobbiamo porre io dico sempre che voglio vedere la mia famiglia nella quale lavoro che è l'istituto superiore come uno spaccato della cittadinanza in sostanza pure quelli sono cittadini pure i nostri colleghi stessi io stessa quindi misuriamoci davvero con le nostre necessità guardiamoci un po' come voi siamo più abituati a vederci e mi sa che ci sono dei problemi vediamo un po' che cosa sceglieremmo per la nostra famiglia che cosa sceglieremmo a casa probabilmente questa è una linea che ci potrebbe guidare meglio anche nel lavoro della pubblica amministrazione per cui è chiaro la risposta sì è entrambe entrambe le ottiche devono essere considerate e perseguite non possiamo lasciare indietro nessuno non possiamo impedire il progresso le spinte in avanti è chiaro che serve una grande pazienza due atteggiamenti diversi una grande pazienza per aspettare che tutti colmino le lacune che magari ci sono e che possono essere strutturali dell'ufficio o dei singoli appartenenti all'ufficio oppure anche saper vedere laddove c'è una spinta propulsiva saperla coltivare e probabilmente ecco riuscire a dare questo segnale di questo buon esempio di considerazione di quella che è la nostra realtà e riuscire a farla trasparire all'esterno se questo se riusciamo in questo intento che non è assolutamente semplice specialmente da parte di chi deve organizzare anche una vita quotidiana che deve dare dei risultati però se li guarda con un'ottica un po' più lunga probabilmente il messaggio può passare e possono passare anche alcuni risultati come pare in questo caso che sia diciamo già un po' certificato grazie grazie mille rivolgerei una pensiero diciamo da parte del dipartimento della funzione pubblica quindi direttore Gullo allora io in genere sono un pochino politicamente scorretto in controtendenza io non vedo questo problema o meglio lo giro in modo spero comprensibile uno nel settore automobilistico degli elettrodomestici così via non mi sembra che i prodotti importati in Italia siano ad uso di italiani anziani digital divisi le automobili che arrivano in questo paese sono quelle che arrivano in Corea spesso le producono in Corea quindi vi ricordate voi io ero giovane mia madre era già anziana allo switch off del tv digitale oggi quando vado a trovare mia madre io non ce l'ho lei ha due decoder e due televisori e lei sa usare Sky io non so usare Sky perché non ce l'ho lei sa usare due telecomandi mia madre ha 84 anni di un gruppo Facebook e uno Whatsapp ora mia madre ha la licenza elementare non sto dicendo che sia facile però è la sfida delle interfacce le interfacce elementari sono byte self elementari l'iPhone senza offesa per chi ha qualcos'altro non ha il manuale e infatti non deve averlo un oggetto che è il manuale va buttato nel diciamo da qualche parte per cui il pericolo di rischiamo che le PA facciano delle interfacce allo stato dell'arte intanto lo trovo difficile perché non ne conosco moltissime che sia noto dell'arte quindi francamente mi troverei strano ma mi pare mi pare che proprio giocando sulle interfacce quindi anche lavorando in quel settore che si abbassa la soglia di usabilità ripeto non lo vedo come problema quello che vedo come problema forse sono fuori tema ma lo dico uguale mi preoccupa lo scarsissimo livello di cultura generale di questo paese se il numero di laureati italiani tra i 25 e 34 anni è inferiore a quello della Turchia e della Grecia questo è un problema che mia madre ha 84 anni in servizio mi sto preoccupando molto meno mi sto preoccupando di chi sta arrivando e che non conosce o non può partecipare in maniera convincente utile al dibattito pubblico anche mediato da sistemi digitali semplicemente perché non ha il livello di cultura per poterlo fare quindi partecipa poco quindi pensiero di famiglia pensiero di famiglia l'usabilità la centralità dell'utente come un tema di intimità intanto ringrazio e saluto l'avvocato Belisario che è l'ultimo dei panelist di questa prima sessione un'esperta esperto di open government e chiederei a Marta Leonori commissaria straordinaria di Formex PA il suo punto di vista su questa tematica digital divide cognitivo e non cognitivo e politiche pubbliche io parto da ciò che Formex ha fatto e può fare su questo tema perché sicuramente l'impegno dell'istituto in questi anni è stato molto forte per portare avanti le attività da webinar seminari esercitazioni proprio su questo argomento uno dei punti su cui però bisogna investire e continuare le attività è sicuramente la rafforzamento delle competenze degli skill di chi poi deve attuare quelle le politiche perché se la mamma di Gullo sa utilizzare il telecomando le va dato il telecomando se deve poter utilizzare dei servizi c'è qualcuno che deve rendere possibili quei servizi avere delle competenze nella pubblica amministrazione che rendano possibili non soltanto fare capitoli e delegare ma poi utilizzare al meglio quei servizi avere dei sistemi che siano interoperabili questa è la sfida che noi abbiamo di fronte nelle grandi realtà come nei piccoli comuni immaginate un piccolo comune che deve attuare la riforma della pubblica amministrazione e tutti quegli strumenti che per noi possono anche cambiare il rapporto con il mondo del pubblico da speed ad altri servizi come il piccolo comune si prepara a questo e come i dipendenti possono avere le capacità per renderlo possibile anche per capire come migliorare i servizi in questo attività di formazione oltre che di informazione e un'attenzione nel reclutamento che è una delle altre attività che fa Formez per capire quali sono le competenze di cui c'è bisogno anche secondo quanto previsto nel nuovo test unico del pubblico impiego che prevede che si faccia un'analisi di quali sono i fabbisogni delle amministrazioni e quindi non riproponendo le parente organiche che ci sono adesso quindi meno camminatori e più informatici con questi elementi sicuramente possiamo fare dei passi in avanti appunto per dare dei servizi pubblici alla mamma di Gullo oltre al telecomando di Skype Grazie mille quindi un tema molto forte di rafforzamento delle competenze interne al fine di offrire migliori interazioni credo che sia una sfida che permea tutti i livelli della pubblica amministrazione quindi concentriamoci su una delle pubbliche amministrazioni locali per eccellenza ovvero Roma Capitale Assessore Marzano grazie grazie a questa opportunità davvero mi sembra che la prima cosa che è venuta fuori come filo conduttore dai primi tre è Citizen First una volta dicevamo Digital First forse è Citizen First la cosa su cui dobbiamo intervenire è Cittadino che è la persona su cui dobbiamo operare e in realtà mi è venuta una battutaccia pensando al Digital Divide Cognitivo che esiste anche un Divide Cognitivo non digitale che è fatto da quelle persone che non capiscono il body language il mondo è pieno di persone che non capiscono il body language su questi non ci siamo mai impegnati ma in realtà ci sarebbe di che ma torniamo al tema il ruolo ovviamente della pubblica amministrazione non può che essere quello di includere perché l'inclusione garantisce la partecipazione la partecipazione garantisce la trasparenza ed è su questo che noi vogliamo lavorare rispetto ai dati che diceva lei prima in realtà nel Lazio c'è il 22% della popolazione che non è mai andata in internet allora la domanda è perfetta dobbiamo occuparci di questi o dell'altro 78% ovviamente di entrambi quindi ovviamente abbiamo fatto speed l'abbiamo fatto con un anno d'anticipo è questione di un paio di giorni fa abbiamo fatto sì che a Digitroma wifi che è il wifi gratuito di Roma Capitale ci si possa accedere da speed quindi lei che viene da altrove avendo insomma il turista che viene da Bolzano da Pantelleria non importa avendo speed può accedere a Digitroma wifi senza bisogno di accreditarsi quindi le tecnologie ci sono ovviamente su questo non si può non intervenire di quello che facciamo contemporaneamente abbiamo fatto quelli che abbiamo chiamato i punti Roma Facile dei punti formativi sicuramente come diceva Marta importante ovviamente la formazione ma in realtà più di mentorship cioè dei punti dove il cittadino che non è in grado di iscrivere il primo a scuola perché non è capace perché non ha internet perché non solo il divario digitale socio-economico culturale non soltanto infrastrutturale come sappiamo trova qualcuno che lo aiuta a farlo non qualcuno che glielo fa perché qualcuno che glielo fa gli regalerebbe un pesce e il giorno dopo muore di fame lo stesso deve trovare qualcuno che gli insegna a pescare quindi trova qualcuno che lo supporta nel fruire del servizio online la prima la seconda la terza volta si suppone che dalla quarta in poi sia in grado di farselo da solo quindi una sorta di mentorship e con questo mi sembra che possa bastare la ringrazio molto quindi diciamo che il quadro che emerge da questi interventi è di una pubblica amministrazione sensibile sul tema che si è messa in moto c'è tra le varie pubbliche amministrazioni una pubblica amministrazione che probabilmente è particolarmente esposta al tema del digital divide proprio per l'eterogeneità dei pubblici a cui si rivolge quindi chi meglio di Antonio Pone direttore centrale di servizi al cittadino IMS può fornirci un punto di vista su questo tema sì grazie allora colgo volentieri il destro dell'intervento del professor Lombetti per dire qualche numero nell'istituto sostanzialmente oggi gestisce 22 milioni circa di assicurati interagisce con 19 milioni di pensionati che hanno in corso pagamenti correnti ci sono 20 milioni di utenti che hanno un PIN dispositivo ovviamente con un diverso livello di informatizzazione a parità diciamo così di disponibilità materiale del PIN interagisce con circa un milione e mezzo di aziende e un numero superiore ovviamente di lavoratori autonomi 28 mila consulenti al lavoro per l'invio di flussioni emesse dalle aziende 30 mila commercialisti su 130 mila totali a livello nazionale che si occupano in particolare di lavoro questo cosa significa ecco all'interno della platea di cui discutevamo assicurati pensionati ma soprattutto assicurati dentro c'è ovviamente di tutto gli extracomunitari persone che non conoscono la lingua anziani intrasportabili quindi il problema della dilemma è risolto ad origine ovviamente dobbiamo andare nel senso dell'inclusività per cui si va dalla estrema diciamo così spinta sul versante del servizio telematico allo sportello mobile per l'anziano intrasportabile che chiede un servizio e non può nemmeno recarsi presso il punto IMS più vicino questo perché i diritti sociali per essere effettivamente esigibili devono avere una accessibilità che sia una accessibilità effettiva e devono quindi prevedere sia informazione che poi materialmente la possibilità appunto di poter essere esercitati con una certa facilità e poi perché politicamente non sarebbe possibile l'alternativa quindi il dilemma come dicevo è risolto ad origine tuttavia anche raccogliendo un po' la sfida e anche lo spunto pregevole del Dottor Gullo io riterrei che comunque vada sempre la proposta la risposta più avanzata per il tipo di utente nel senso che la chiave di volta è ragionare in termini di profilazione degli utenti questa è un po' la chiave che noi stiamo cercando di sviluppare perché sappiamo molto dei nostri interlocutori sappiamo quali sono i comportamenti riusciamo sostanzialmente a intercettare a priori quella che può essere la propensione o meno utilizzare servizi web e quindi a seconda del tipo di soggetto che abbiamo davanti dei suoi comportamenti d'acquisto ecco per continuare a coltivare questa metafora un po' rispetto al parallelo che veniva fatto col mercato noi dobbiamo tarare un'accessibilità quindi che sia collegata e tarare quindi un modello di interazione su di esso questo perché come veniva fatto osservare non dipende né dall'età né dal livello di istruzione la capacità del soggetto di interagire efficacemente con delle interfacce che siano anche abbastanza da questo punto di vista evolute però la sfida è sempre in questo contesto quello di rendere semplice è fruibile perché perché comunque l'inclusività garantita attraverso alternative rispetto al servizio web ha dei costi che non possiamo non tenere conto e sottrae risorse rispetto per esempio a recuperi di produttività che si possono fare sulla materiale di lavorazione per esempio le istanze di lavorazione e quindi c'è lì un trade off quindi la spinta è proprio quella di cercare di accrescere la semplicità di accesso per allargare la platea dei soggetti che riescono ad accedere attraverso interazione telematica e digitale ai servizi dell'istituto perché consente un recupero di produttività e di fatto anche la possibilità di fornire servizi aggiuntivi proattivi che non sono possibili attraverso le tradizionali modalità di erogazione dei servizi grazie grazie a lei direi che possiamo concludere il primo giro di tavolo con l'avvocato Belisario che peraltro in quanto esperto di open government fa della inclusione quindi la digital inclusion anche una bandiera e quindi siamo molto curiosi di sentire il suo punto di vista sì innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per l'invito perché è l'opportunità anche per me per fare alcune riflessioni su gli interventi interessanti che ho ascoltato e che mi hanno stimolato qualche spunto che mi piacerebbe condividere con voi ovviamente noi parliamo di digital divide e politiche pubbliche e io sono un avvocato un amministrativista uno dei dogmi con cui sono stato formato è quello che l'amministrazione è autoconsistente quindi definisce la politica la gestisce la rendi conta da sola sì certo interagisce con gli utenti ma in un'ottica di governo solido in realtà il meccanismo dell'open government la dottrina dell'open government ha rotto questo dogma di autosufficienza ed autoconsistenza della politica pubblica e credo che proprio il digital divide possa rappresentare il terreno uno dei terreni su cui i paradigmi dell'open government diventino più efficaci l'open government ha tre pilastri tradizionalmente la letteratura la trasparenza la partecipazione sono quelli più diffusi e conosciuti ma ce n'è un terzo che secondo me molto sottovalutato e tra l'altro che spesso si fa fatica a colorare a riempire di significati concreti di azioni efficaci che è la collaborazione e collaborazione significa e tra l'altro lo dico con piacere anche perché con molti qui a questo tavolo Marta Leonori Elio Gullo lavoriamo ormai da un anno e mezzo a qualcosa che si chiama open government partnership e quindi un piano di azione per l'open government l'open government partnership è basata sulla co-creazione perché si tratta di un organismo multilaterale che vede già nel suo stile incommitti alla pari i rappresentanti di governi e rappresentanti della società civile siamo oltre il co-design che pure è qualcosa di cui sicuramente parlerete nel corso della giornata e avete sentito parlare cioè stiamo proprio parlando di collaborazione non soltanto nel design ma anche nell'attuazione provo a fare due esempi concreti giusto per evitare di rimanere nell'astratto l'anno scorso noi abbiamo realizzato una iniziativa che si è chiamata settimana dell'amministrazione aperta la conoscete immagino alcuni di voi la conosceranno bene la settimana dell'amministrazione aperta ha agito ha lavorato anche con riferimento al digital divide penso alle classiche lezioni dei nipoti ai nonni per insegnarli ad utilizzare il computer ma con quale meccanismo il dipartimento titolare dell'azione ha deciso quali erano i progetti da fare sul territorio e li ha gestiti direttamente no c'è stato un principio di collaborazione su un calendario di oltre 242 eventi quelli fatti sul territorio dal dipartimento non ce ne sono stati perché il dipartimento li ha fatti soltanto a livello centrale grazie all'attivazione di una rete l'open government forum quindi una rete di soggetti operanti anche nel settore del digitale si è riusciti a lavorare ad una definizione di un programma collaborativo gestito a livello locale arrivando ad utenti o coprendo determinate azioni che il centro non aveva progettato di cui non ha curato l'esecuzione però in modo assolutamente efficace quindi attenzione dire open government nelle politiche pubbliche significa anche aprire le politiche pubbliche ai principi dell'open government quindi chiedere collaborazione non soltanto in fase di progettazione quindi ben venga il co-design ma anche in fase di attuazione che cosa possono fare gli attori che non sono le amministrazioni per questo tipo di attività faccio poi un altro tipo di esempio un po' più lontano ma io lo ritengo ed appartiene ad un pezzo della mia vita apparentemente lontano ma molto vicino è l'esperienza dei digital champion io credo che è un'esperienza che probabilmente molti di voi ricorderanno c'è stato un anno novembre 2014 dicembre 2015 in cui una rete di più di un migliaio di attivisti ha dato una mano per provare a fare alcuni pezzi di cultura digitale di alfabetizzazione delle amministrazioni delle imprese dei cittadini penso ad esempio alle attività fatte a supporto della rete perico d'erdoggio per la cultura digitale nelle scuole dei ragazzi ma penso anche a tutta l'attività fatta con oltre cento eventi sul territorio per la fatturazione elettronica una riforma di grande importanza che presupponeva alfabetizzazione tanto per le amministrazioni quanto per le imprese che potevano essere resistenti ecco anche quello è il classico esempio di collaborazione c'era una linea guida una grande direttrice di politica pubblica c'erano mille volontari che hanno fatto il loro lavoro in modo assolutamente parallelo e convergente rispetto alla politica pubblica quindi e qui entriamo nel secondo tema che volevo sviscerare le chiedo con la sua risposta aperto benissimo il fronte alla seconda cosa che avevo in testa che è uno degli assunti chiave della filosofia e della scienza dello studio della gestione dei servizi pubblici riguarda il tema del coinvolgimento dei cosiddetti stakeholders cioè dei soggetti che non sono amministrazione all'interno dei processi decisionali dell'amministrazione tra i vari modelli ce ne sono alcuni che hanno avuto più successo di altri e che mettono sul tavolo fondamentalmente due possibili estremi da un lato il tema del cosiddetto paternalismo burocratico ritornato al tema familiare che credo sarà un filo conduttore della nostra chiacchierata di oggi ovvero la visione di una pubblica amministrazione che si fa carico di un problema e lo risolve internamente per offrire una risposta efficace ai cittadini arrivando all'altro estremo che è quello della partecipazione attiva che l'avvocato Bellisario ha già iniziato a introdurre ora pensando al tema dell'usabilità delle buone interazioni della centralità del cittadino è un lavoro che dobbiamo fare noi all'interno di noi stessi come pubblica amministrazioni cambiando competenze e cultura o e ancora una volta è un vel da un punto di vista informatico quindi è un o e un e allo stesso tempo con una partecipazione attiva chiedo all'avvocato Bellisario un breve commento anche se il punto di vista mi sembra abbastanza chiaro si provo ad andare davvero telegrafico direi quasi per tweet tanto adesso i 280 caratteri ce lo consentono primo la partecipazione credo che ormai non sia più sufficiente cioè la partecipazione è un pezzettino ma fermarsi alla partecipazione potrebbe essere riduttivo i nostri utenti probabilmente da un lato non si accontentano più di essere semplicemente consultati dall'altro lo ritengo riduttivo nell'interesse dell'amministrazione abbiamo una marea di competenze di attivazioni soprattutto sui territori una rete così capillare che nessun ente nessuna amministrazione probabilmente potrebbe riuscire ad attivare quindi perdiamo dei sensori rilevanti tanto in entrata quanto in uscita quindi il tema dell'evoluzione nei confronti della collaborazione è a mio avviso assolutamente decisivo oltre ripeto la mera consultazione oltre il mero co-design focus group cose di cui chi oggi è seduto qui è sicuramente più bravo e competente di me il secondo tema però è ovviamente che la partecipazione senza permesso va fino a un certo punto qui stiamo parlando di politiche pubbliche certo esistono le iniziative ottime delle associazioni locali che fanno il loro però è ovvio che se vogliamo inserire vogliamo approfittare davvero di questa cooperazione sinergica pubblico privato e tra soggetti abbiamo necessità di abilitarla a livello di amministrazione cioè è ovvio che l'amministrazione a questo punto cosa deve essere il ruolo centrale dell'amministrazione non è più quello di tipo paternalistico conosco io tutti i problemi so io la soluzione migliore a tutti i problemi abbiamo detto che questo già non è però l'amministrazione deve in qualche modo riacquistare e conservare la sua centralità diventando il fattore abilitante cioè costruendo i momenti di collaborazione governando i momenti di collaborazione e quindi se dovessi dire davvero il tweet sulle competenze dobbiamo sviluppare maturare le competenze per gestire processi collaborativi una volta si diceva i processi partecipativi anche la collaborazione va gestita perché la collaborazione due settimane fa ero all'AIA per un incontro con rappresentanti di altri 33 governi rappresentanti della società civile si parlava dello sforzo della fatica della partecipazione della collaborazione cioè non solo ci vuole metodo ma c'è qualcosa che va anche gestito in un processo di questo tipo che sicuramente in un processo top down non è assolutamente di fatica grazie avvocato Antonio Pone dal punto di vista di IMS partecipazione sviluppo delle competenze sviluppo della cultura qual è la sfida che sente più stringente nell'abbracciare questo cambiamento come per quanto riguarda il primo stimolo prima suggestione anche in questo caso il dilemma in realtà è un dilemma che si risolve con la congiunzione non con l'opposizione la personale sensazione è che in ambito pubblico e anche nell'ambito dell'amministrazione in cui faccio parte ma più in generale ovviamente nell'andare oltre il paternalismo burocratico siamo ancora comunque molto distanti rispetto a quello che dovremmo rappresentare ed essere sotto il versante di una cultura organizzativa realmente orientata all'utente che poi si riverbera anche sui processi di elaborazione delle procedure dell'interfaccia in termini di accessibilità e di usabilità e a maggior ragione siamo distanti da quello che può essere un corretto esercizio di una partecipazione attiva già a livello veniva detto di definizione della policy ma più in concreto anche nella definizione degli schemi di realizzazione di organizzazione dei servizi siamo molto distanti in ambito pubblico forse questa è una riflessione su cui dovremo investire i prossimi anni in maniera estremamente decisa perché può essere l'elemento che può fare il salto di qualità al sistema a posto che una serie di issue sono già molto chiare in termini di direzioni che devono essere intraprese mi permetterei di insistere in particolare sulla partecipazione attiva ricanciandovi un po' quello che dicevo prima va fatta non solo perché è giusto è bello in qualche maniera si appare in termini più umani e più meno autoreferenziali ma semplicemente perché viene quindi con un'ottica molto pragmatica se io riesco a coinvolgere preventivamente i panel selezionati degli utilizzatori di un certo tipo di procedure questi nella definizione dell'architettura questi riusciranno ad avere un prodotto che effettivamente è su misura per loro e non avranno necessità di interagire in termini di problem solving con le strutture con le sedi quindi non genereranno afflussi presso gli sportelli ad esempio le stesse comunicazioni che escono e che ricevono i cittadini dall'interazione con le procedure se sono semplici e comprensibili o se sono invece criptiche autoreferenziali perché di fatto magari configurano un provvedimento amministrativo e quindi sono magari sotto profilo giuridico perfette ma sotto profilo della comprensibilità praticamente inaccessibili di riverbro generano un accesso presso i front office e questo ha un costo quindi dobbiamo essere tutti consapevoli che la partecipazione attiva va fatta è uno dei percorsi di crescita in ambito pubblico ma non semplicemente perché vogliamo sentirci meglio con noi stessi tra virgolette ma per ragioni anche molto pratiche e programmatiche in PEC la ringrazio diciamo che prepararsi alla partecipazione è veramente un percorso lungo è un percorso anche forte e impattante sulle persone sulla cultura degli enti e sulla cultura individuale delle persone quindi mi piacerebbe capire da Marta Leonori Formez qual è la prospettiva sul tema competenze culture e predisposizione delle pubbliche amministrazioni nei confronti della partecipazione attiva su questo sicuramente bisogna partire come si diceva dalla cultura organizzativa perché altrimenti noi andiamo a rafforzare singole persone che però non sono inserite in un sistema su questo appunto vanno sviluppate nuove competenze ad esempio in amministrazioni soprattutto in amministrazioni complesse non possono mancare quelle competenze di saper fare rete saper mettere insieme settori diversi e conoscenze diverse su questo abbiamo dei nuovi strumenti e sono anche strumenti facilmente accessibili da un punto di vista economico mi metto dal punto di vista di un'amministrazione che deve anche avere a che fare con dei budget limitati l'utilizzo dei social noi abbiamo appena aperto da qualche settimana il canale LinkedIn perché come sapete abbiamo moltissime collaborazioni per diffondere di più le informazioni ma anche avere un bacino di competenze sulla rete sul social per eccellenza delle competenze c'è anche la possibilità di arrivare in maniera immediata e semplice oltre che economico a diverse persone l'ultimo webinar ha raggiunto oltre 900 persone proprio su un progetto di Edio Gullo e su sistemi informativi quindi gli strumenti ci sono vanno però fatti conoscere e più che altro fatti maneggiare dalle amministrazioni in un volume che stiamo portando avanti è un volume in progress verrà aggiornato ogni semestre sui social l'idea è proprio di mettere insieme quali sono le esperienze quali sono i social e come possono essere utilizzati dalle amministrazioni ci sono tante occasioni per diffondere queste esperienze una è la settimana dell'amministrazione aperta lo scorso anno anzi a marzo noi l'abbiamo sfruttata insieme alla funzione pubblica per fare il punto su diversi elementi della riforma media della riforma della pubblica amministrazione appunto da speed al foia quindi ci sono le occasioni ci sono anche dei progetti sempre con funzione pubblica abbiamo in atto un progetto che si chiama riformativa che per ora ha 15 amministrazioni come pilota ma che arriverà a 70 tra regioni e comuni e province che intende affiancare le amministrazioni nell'implementazione della riforma uno dei temi ad esempio è proprio il foia come creare il registro della trasparenza come un'amministrazione complessa si deve preparare a affrontare tutte le richieste che arrivano dai cittadini diciamo che tra gli hashtag di questa conversazione abbiamo messo co-creazione partecipazione qui parliamo di contaminazione e andiamo avanti per rima o non per rima chissà se abbiamo un ulteriore hashtag dal mondo del ministero sviluppo economico quindi il direttore forsi noi partiamo dall'user experience noi partiamo da laboratori noi partiamo da un'esperienza reale di vicinanza a cittadini normodotati e non normodotati quindi proviamo a fare invece noi il percorso al contrario cioè risalire da quelli che sono le suggestioni che ci arrivano insomma le segnalazioni le necessità che ci arrivano dalle persone che veramente fanno i nostri test per cercare di ricondurli in un'ottica di contributo a una politica pubblica questo è avvenuto nella nostra collaborazione con funzione pubblica perché i colleghi hanno proprio questa possibilità di fare un info sharing davvero reale e anche efficace e noi possiamo mettere dei contenuti ecco alla fine vorrei semplificare provare a semplificare questo percorso avere proprio un quadro molto semplice che fa riferimento a delle azioni concrete perché noi dobbiamo pensare anche di superare un certo individualismo che c'è e una certa autoreferenzialità che c'è è un po' tipica come dire ha un aspetto positivo anche questo perché alla fine se qualcuno crea qualche progetto è giusto che sia orgoglioso ecco il passetto successivo è quello di capire tutti insieme che se ce li mettiamo insieme questi progetti positivi efficaci probabilmente il salto non sarà la semplice sommatoria ma sarà ben più grande risultato quindi vedere che cosa c'è di esperienza alla fine ci fa fare poche chiacchiere utili ci fa pensare ad essere operativi vi cito soltanto un paio di esempi velocissimi una persona di una pubblica amministrazione con una grande disabilità che fino a qualche tempo fa sarebbe stata come dire poco utilizzata ma perché le cognizioni che aveva per la competenza per proprio il contributo che poteva portare con questo tipo di attenzione quindi una postazione di lavoro a casa una postazione adatta alle sue caratteristiche interagisce regolarmente quindi dà il suo contributo non veramente non minimo veramente molto importante l'altro è quello del non vedente che mi sono trovata mi hanno chiamato i colleghi a vedere il non vedente che una mattina si è presentato all'ufficio dicendo avevo finito le risorse di aiuto a due zampe stamattina ne ho una a quattro zampe può entrare? Bene questi sono alla fine i casi pratici è arrivato con il cane che ha veramente dato uno spettacolo di partecipazione incredibile nel momento in cui giocava perché facevamo alla bestia tutti i complimenti e nel momento in cui sapeva di dover lavorare e collaborare alla fine prendiamo questi risultati portiamoceli dentro casa cerchiamo davvero di superare l'individualismo che può essere in qualche modo che ci mette in gara ma che è anche il bello dell'Italia in sostanza che ci fa a volte raggiungere vette non indifferenti però pensiamo a che cosa dobbiamo fare quindi me ne ha dati due semplificazione e condivisione direttore Gullo io mi permetto visto che è una personalità vulcanica e ha dei punti di vista ha degli afflapi poetici e di conseguenza da questo punto di vista sarà portatore di certamente un punto di vista interessante mi è una una cosa partecipazione certamente è bellissimo condivisione coinvolgimi ma poi alla fine c'è un momento in cui è giusto che l'enorme competenza della pubblica amministrazione guidi più che farsi guidare o coinvolgere allora perché non ci siamo messi d'accordo con Lambert su questa domanda lo ringrazio speravo che lei mi facesse questa che è l'unica che so rispondere allora effettivamente effettivamente no prendo lo spunto pregevole dei colleghi in particolare di Ernesto Bellisario la stagione della partecipazione coprotetazione qualunque cosa pone un problema ovvero le parti sono comunque distinte le parti sono distinte è corretto sensato opportuno ma in un dialogo tra due parti si impara in due non si impara in uno il percorso non è monodirezionale vieni tu utente bravissimo chi te pare a spiegarmi come devo funzionare sì grazie però cerca di aprire il tuo cervello e di capire quali sono i miei vincoli i limiti eccetera quindi questa operazione è difficilissima ma funziona io per te notate non dico mai quello che ho fatto perché non mi ricordo però ho lavorato un pochino in un ente di previdenza era piccolo è stato fuso era l'Enfals con un'utenza molto particolare TV Mediaset Rai e le altre e le squadre di calcio quindi un'utenza particolarissima avendo fatto già sette anni in IMS li vedevo come strani questi ma che ce vò ma che ce vò no perché lì la componente chi sei tu è preponderante rispetto al tuo adempimento le uniche innovazioni che ho fatto in quella stagione breve 2006-2007 le ho fatte sotto copertura e alleandomi col cosiddetto nemico ovvero senza dire niente a nessuno in quel lente era stato commissariato per 25 anni negli ultimi 30 era disastrato funzionava tutto a carta io venivo da lì anzi avevo fatto un po' di un po' di funzioni pubbliche ma che caspita è sta cosa cioè non può funzionare allora i miei non mi capivano va bene non mi capite voi e ho convocato in due giorni consecutivi del novembre 2007 ancora lo ricordo 2006 perdono Rai Media sette a questo tavolo e il giorno dopo le scuole di calcio e gli ho detto ragazzi così non possiamo funzionare cioè voi vi rompete le balle a comunicarmi una serie di dati via cartace né acquisirli no voi avete questi informativi che anche ci vogliamo mettere d'accordo su come disegnare il vostro modo di parlare con me e il modo in cui accorgo i dati io posso fare alcune cose non tutte non posso cambiare le norme le condizioni sono le seguenti se ci mettiamo qua insieme a lavorare vi cambio il sistema allora inizialmente mi dissero ma lei chi è testuale come dire perché dobbiamo fidarci di lei perché io lo faccio ve lo assicuro prima lo facciamo e dopo lo facciamo a circolare l'Empals ricordo a me stesso il novembre 2006 facciamo questa riunione dal primo marzo 2007 nessun pezzo di carta è più entrato in quell'ente l'Inps lo faceva da anni ma l'Inps già lavorava con diciamo soggetti terzi che tayloristicamente fanno questo di mestiere il lavoratore dipendente era un must lavorare con lo stipendio di Totti piuttosto che mi ricordo Albertazzi che era qui direttore del teatro di Roma un giorno chiama lui Albertazzi al telefono dico c'è Albertazzi cosa vuole Albertazzi mi chiede dottor culo senta dovrei cambiare l'Iban della pensione me lo volevo comunicare per telefono se facevo il dipendente pubblico dicevo Albertazzi faccia qualcos'altro non potevo dirgli faccia qualcos'altro mi fidavo che era Albertazzi perché la voce di Albertazzi me la ricordo quindi ho detto mi detti l'Iban ho scritto l'Iban poi ho fatto una porcatina l'ufficio pensato ragazzi cambiate l'Iban Albertazzi perché altrimenti se non lo cambiamo lui chiama il ministro e poi ci fregheranno allora in questo caso l'utente non gli potevo spiegare Albertazzi era già quasi ho 90enne che la procedura non era esattamente quella però ricordo a me stesso e anche a voi se posso permettermi una grande stagione di cambiamento facendo soltanto questo e litigando spesso con chi mi chiedeva ma che ce vuoi fare così e no che ce vuoi se tu aspetti un secondo e capisci i vincoli e i limiti che noi abbiamo forse ti immedesimi anche tu e può servire questa esperienza mi veniva e cito c'ho la destra dell'amico che ho conosciuto oggi ma pone io in questa sala la prima volta che entrai ero in maglietta a maniche corte con la barba perché il ministro Cassese mi aveva chiamato io ero in vacanza con la mia donna non so in che parte d'Italia mi dicono il ministro la vuole subito gli ho detto caspita sono in vacanza non vengo e il ministro o viene o ha chiamato i carabinieri testuale vabbè io sono in maglietta e pantaloncini e barba lunga vengo così ero da Parma torno e arrivo qua lui mi chiede Gullo dobbiamo rapidamente fare un po' di servizio al cittadino che si basano su quei touch screen del cavolo vi ricordate con le tesserine del codice fiscale io sono i primi che aveva fatti perché era l'unico che gli aveva detto si può fare aveva convocato tutti gli altri enti lavoravo in IMS no non si può fare chissà che c'è volto no che c'è volto c'è volto facciamo in pochi mesi lo facciamo e quell'esperienza fu fondamentale appunto lavorare con persone normali e provare a convincere quei fessi che lavoravano con me nell'amministrazione io il primo incluso che dicevano questo non si può mai sensire che non mi compete ma la norma non me lo consente menate pure menate da questo momento mi permetto di dirlo e poi chiudo perché ho parlato un pochino troppo però sono un sabotatore delle riunioni ma anche diciamo un attentatore fate tutto quello che vi va di fare evitando soltanto quello che è rigorosamente vietato di usare intelligenza non è vietato parlare con gli altri non è vietato immedesimarsi nelle possibilità degli altri non è vietato anzi vi leva lavoro migliora la qualità del lavoro e della relazione è un valore mostruosamente elevato vi assicuro che è elevato non sbagliavo assessore assessora le devo dire la verità mi suona strana non mi faccia dire cosa no 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 ma si figura ritengo che sia una carica e che le cariche non abbia sesso ma questo è un punto di vista personale è un errore anche quello da un punto di vista di Roma Capitale questa tematica partecipazione competenze e cultura come è stata abbracciata concordo tanto con quello che ha detto sia Ernesto che Elio sul fatto che la partecipazione non basta seppure essenziale e forse alle keyword che diceva Ernesto sull'open government ne aggiungerei una che è l'accountability che non saprei tradurre bene perché la mettiamo come hashtag accountability responsabilità sì responsabilità perché gli utenti non sono utenti ma sono cittadini e allora torno al citizens first di cui parlavamo prima è bellissima questa dell'intelligenza Elio ci aggiungerei il buonsenso anche il buonsenso non costa niente a volte basterebbe anche se uno non è tanto intelligente ma ha buonsenso riesce a fare cose fantastiche a proposito di carta un aneddoto ve lo devo raccontare tonnellate di carta per le delibere tonnellate siamo 12 assessori è un dramma moltiplicate tutte le delibere per 12 è un incubo salvo che il giorno prima o qualche giorno prima ci arrivano ovviamente via mail e allora quello che io ho detto visto che esiste il bio bring your own device aggiungici anche il bio bring your own paper se proprio te la vuoi portare cartacea te la porti sulla tua carta non la fai spendere ai cittadini romani sta funzionando il non coinvolgimento ovviamente è proibito non può che essere proibito e non dalla normativa ma dal fatto che ovviamente da soli nessuno di noi è in grado di fare niente abbiamo bisogno dell'università abbiamo bisogno della pubblica amministrazione centrale abbiamo bisogno delle imprese abbiamo bisogno delle associazioni grande il discorso del Coder Dogio mi hai ricordato che il 18 sabato prossimo no questo o quell'altro facciamo un altro il secondo Coder Dogio in Campidoglio il primo l'abbiamo chiamato Campidogio perché veniva bene quest'anno lo facciamo siamo basato sulla diversity perché rientra nella per bambini per bambini dai 7 anni in su fino ai 17 di solito la diversity perché siamo vicini ai noi al 25 novembre che è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne quindi abbiamo provato a declinarlo in quell'ottica sulla partecipazione stiamo revisionando lo statuto quindi con tutti gli istituti partecipativi proprio per evitare quello che lei giustamente chiamava il paternalismo burocratico grazie ovviamente non ci piace un granché abbiamo messo in piedi una comunità degli innovatori interni in Roma ha 24 mila scarsi dipendenti facendo un po' di conti statistici l'1% sicuramente è disponibile a collaborare con noi mi accontenterei dello 0,5 100 persone che vengono a lavorare con noi e che restano dove sono e fanno da traino all'innovazione nel settore in cui sono quindi il saper fare rete che diceva Marta li mettiamo tutte insieme e ci stanno tutte e quello che diceva Rita quando diceva mettiamo in comune le risorse perché è così che possiamo e dobbiamo lavorare abbiamo fatto un questionario di formazione interna di autovalutazione proprio per chiedere che cosa sapete che cosa volete che facessimo e iniziative di partecipazione ne abbiamo fatte infinite perché poi servono ovviamente anche quelle la nostra agenda digitale che trovate sul portale fatta con delibera tempo fa è stata fatta in maniera partecipata sia con incontri di persona sia stata online per un mese quindi lei chiunque dall'Australia all'Islanda chiunque fosse in rete avrebbe potuto ovviamente dirci la sua quindi ci crediamo molto soprattutto al nessuno escluso che sentivo dire prima ma trovo che quello che ci stiamo dicendo è un messaggio di afflato culturale spinta però è anche un investimento diciamo che la pubblica amministrazione deve fare su se stesso sulle proprie persone sui propri processi devo dire che è molto energizzante questa tavola rotonda perché si vede mi errebbe a citare Pasquoli con la grande proletaria che si è mossa l'idea di una pubblica amministrazione che si sta interrogando sul ruolo e sta evolvendo in questo ruolo la domanda di tutto questo ma abbiamo già avuto risposte ma diamo un ultimo messaggio di ulteriore speranza è se questo investimento può ripagare ricomincerai con lei Assessora ok sicuramente paga sicuramente paga attenzione magari non lo chiamiamo ROI lo chiamiamo social ROI perché non è un ritorno sull'investimento è una cosa su cui da almeno 15 anni mi lamento con tutti gli economisti perché nella pubblica amministrazione non ci può essere un ROI nel senso che il servizio lo faccio a prescindere dal fatto che costi perché lo devo fare perché è un servizio cittadino e rientra nel discorso del nessun escluso nessun escluso perché per quanto mi riguarda io sono una persona fondamentalmente ottimista però facendo questo mestiere il bicchiere è vuoto non è mezzo pieno o mezzo vuoto se ne escludo anche uno solo quindi le nostre politiche sono proprio in quella direzione nell'ambito delle abilità di cui ci parlava Rita prima abbiamo da un mesetto circa il disability manager che gestirà anche questi tipi di interventi e io credo che lui vi potrà dare sicuramente si chiama Andrea Venuto potrà darvi sicuramente ulteriori informazioni sul social ROI la ringrazio molto e passerei la parola all'avvocato Belisario mi viene in mente un convegno del forum PA a cui partecipai un paio d'anni fa sul tema dell'open government dove avevo un ruolo più o meno simile a quello di oggi e iniziai il mio intervento dicendo ai presenti quante delle vostre amministrazioni stanno facendo operazioni di open government e si alzarono il 95% delle mani quante mi saprebbero dire in questo motivo in questo momento per quale motivo lo stanno facendo e si alzarono 5 di mani questo è un tema fondamentale di tutti questi percorsi che stiamo mettendo sul tavolo cioè l'obiettivo il purpose per utilizzare un anglicismo che dà al concetto di obiettivo un significato un pochettino più ampio open government ritorno sull'investimento ritorno sull'investimento del mettere il cittadino al centro confesso che da un anno e mezzo è una domanda quasi quotidiana che mi faccio e quindi è una domanda e un pungolo e provo a rifletterci e infatti erano riflessioni che stavo provando a mettere sul tavolo paga probabilmente l'open government dobbiamo iniziare ad uscire da questa prigionia che abbiamo nei confronti del ritorno cioè l'open government è corretto come metodo democratico cominciamo ad affermare che l'open government è giusto ed è corretto perché è la democrazia del 2017 quasi 2018 se mi è consentito una citazione cinematografica cioè la democrazia questo ci sono anche dei dati no è stata pubblicata proprio ieri una percezione della livello di efficacia delle istituzioni democratiche da chi sta dentro le istituzioni e da chi sta fuori le istituzioni e quello che emerge da questa rilevazione internazionale credo che fosse di di più research però poi dopo ve la ve la ve la segnalo con maggiore dettaglio eventualmente via social è che chi sta dentro pensa che la democrazia rappresentativa funzioni benissimo paternalistico mi ha eletto io so benissimo quali sono le tue esigenze e chi sta fuori ritenga invece che funzionerebbero meglio le cose attraverso la trasparenza la partecipazione e la collaborazione quindi il primo tema è open government è il modo per rispondere alla crisi delle democrazie che evidentemente non se la passano benissimo su questo ho gioco facile non c'ho bisogno di spiegarlo perché quindi è corretto dopodiché funziona si funziona nel senso che essendo la cosa che negli anni 2010 somiglia di più al metodo democratico puro non parliamo di democrazia diretta stiamo parlando di una democrazia dove il decisore fa il decisore quindi quello che diceva Elio prima qui nessuno sta dicendo che grazie alla collaborazione espropriamo il decisore di sue competenze ma lo mettiamo in condizioni di fare il decisore nel modo migliore cioè valorizziamo il ruolo del decisore perché lo mettiamo in condizioni di disporre da un lato di più informazioni e dall'altro di una rete che gli consente di massimizzare quelle che sono le scelte le scelte prioritarie quali sono i ritorni perché poi giustamente fra le diceva quando io parlo di ritorni della politica pubblica a cosa devo guardare quali sono gli indicatori perché questo è importante allora il primo miglioro la qualità delle decisioni cioè grazie all'open government io sono in condizione di adottare delle decisioni di definire delle priorità che siano effettive che siano vicine a quelle dei bisogni delle persone perché per quanto io possa avere una rete di consulenti per quanto io possa avere una grandissima sensibilità nessuno sarà capillare come sono capillari i miei cittadini come sensori di quelle che sono le priorità le esigenze e quindi questo è importantissimo e quindi aprire le decisioni significa prendere decisioni migliori e sappiamo quanto abbiamo bisogno di decisioni migliori e di informate nell'era della società dell'informazione il secondo è la velocità velocità nell'attuazione delle politiche cioè in era di spending review restrizione comunque la possibilità di spesa se io ho la possibilità di raggiungere più velocemente i miei obiettivi è quella che qualcuno mi dia una mano ma ovviamente non stiamo parlando di forza lavoro stiamo parlando di collaborazione se e qui ritornavo al discorso della settimana dell'amministrazione aperta che si mormora ritornerà all'inizio del 2018 per cui per chi è aggiornato state sintonizzati rimanete sintonizzati visto che credo a occhio e croce qualcuno interessato ci sarà dicevo noi avevamo un bisogno il bisogno era fare arrivare e sensibilizzare all'open government tra l'altro la cosa interessante a forum PA forse se io chiedo chi di voi sta facendo open government si alzano delle mani probabilmente io al di fuori da questa stanza ho bisogno che l'open government ci sia senza che venga chiamato open government e quindi abbiamo provato a fare questa iniziativa che significasse fare azioni di open government senza chiamarlo open government noi quante azioni avremmo potuto fare 10 5 50 ci siamo aperti in una settimana ne abbiamo fatte 242 ne hanno fatte 242 insieme coinvolgendo oltre 20.000 persone in una sola settimana avremmo potuto pensare di fare qualcosa da solo in questo modo quindi mettere a sistema la collaborazione oltre ad essere eticamente corretto oltre a consentirmi di prendere decisioni migliori mi consente di arrivare prima a meta grazie mille quindi una dimensione perlomeno non solo economica del ritorno però nei suoi due interventi Antonio Pone ha molto stressato il fatto che la centralità dell'utente genera anche delle interesse diciamo delle interessenze dei vantaggi economici ogni tanto la mia derivazione aziendalista mi influenza che proprio nell'epoca della spending review e delle vacche ormai scheletriche tende a non dispiacere certo anche perché io concordo perfettamente con quello che diceva adesso l'avvocato Bellisario se noi dobbiamo insistere su altri argomenti tipo fatelo perché conviene quando dovrebbe essere un valore in sé la partecipazione vuol dire che nella nostra storia nell'ambito pubblico purtroppo tale non è questo valore allora dobbiamo insistere su altri tipi di fattori di driver che possono affermare questo anche come valore e quindi il concetto di ritorno ci serve laddove porto l'IMS è ovviamente molto sbilanciata sui servizi più che sui processi regolatori porto l'esperienza diciamo concreta di ritorno economico innanzitutto anche se il ritorno non è solo economico poi lo vediamo facciamo un esempio forse non molti sanno che negli ultimi anni l'istituto ha subito una contrazione per effetto delle leggi passate attraverso gli interventi passati sotto la vulgata di spendi review l'istituto ha subito una contrazione del budget relativo alle spese di funzionamento di circa il 40% eccezione fatta per le spese per il personale che non erano comprimibili ma per tutto il resto c'è stata una fortissima contrazione perché quasi la metà del budget disponibile è stato eliminato quindi tutta una serie di attività sono state di necessità ridimensionate perché l'approccio purtroppo anche se si chiamava spendi review alla fine è un approccio meramente finanziario che non va a valutare qual è l'impatto poi sui servizi resi col rischio che il taglio in termini poi di efficienza si diverte non positivamente ma negativamente perché l'impatto negativo è più che proporzionale rispetto alla contrazione del fattore di input che viene a essere in qualche maniera tagliato quindi per esempio uno dei tagli che l'istituto è stato costretto a fare è relativo alle comunicazioni che era abituato a fare all'inizio anno tutti i pensionati e ai soggetti per cento di prestazione di sostegno del reddito dei modelli CUD qual è il risultato? il risultato è che questi soggetti avendono bisogno per potersi poi rivolgere i CAF per l'assistenza fiscale accedevano alle sedi per farselo stampare quindi il taglio è visibile finanziariamente ma poi genera un costo occulto che tu in qualche maniera non riesci a individuare ma che è generato dall'impiego del personale in attività di front office che potrebbe essere risparmiato e dalla stampa materiale di questi duplicati ecco pensate ed è una delle cose che stiamo implementando se consentissimo lo scaricamento veloce ovviamente tutto questo sul sito già c'è ma in termini di facilità di accessibilità anche attraverso un'app allo smartphone della nonnina che veniva detto prima in realtà è molto più informatizzata probabilmente di quanto siamo noi beh vai nella direzione di ridurre questi costi occulti e di avere un ritorno dell'investimento che è un ritorno molto concreto molto banale molti degli afflussi e degli sportelli sono per esempio legati alla spiegazione di variazioni minimali dell'importo della pensione da un mese all'altro allora forse non tutti sanno che nel sito attraverso un applicativo c'è 2.000 pensioni queste comunicazioni sono già spiegate ma se ne estendiamo l'accessibilità intorno appunto a un meccanismo semplice le app eccetera tutto questo genera minori accessi alle sedi e quindi riduce lo sforzo che tu devi dedicare alla copertura di questo tipo di interazione e quindi economicamente immediatamente dispiega un ritorno però il ritorno non è solo economico c'è anche un ritorno di immagine un ritorno di qualità un ritorno come lo vogliamo denominare diciamo così di adeguatezza rispetto a tempi di legittimazione di un operato della pubblica amministrazione non autoreferenziale ma che tiene conto le tue esigenze facciamo riferimento a una procedura anche questa già presente nel sito agenda appuntamenti vuoi prendere un appuntamento con l'Inps lo fai attraverso il sito attraverso questa procedura se lì per esempio tu prevedi come stiamo cercando di attivare proprio in queste settimane la possibilità di prendere l'appuntamento come modalità ulteriore attraverso un collegamento Skype pensate al residente all'estero che ha una pensione in convenzione internazionale è vero teoricamente può chiedere un appuntamento in una sede Inps per un suo problema però se noi gli semplifichiamo la vita e gli consentiamo da casa sua di interagire con noi con la nostra persona di front office tramite Skype gli consentiamo una fruibilità molto maggiore per noi potrebbe non esserci un ritorno dell'investimento perché tutto sommato il costo d'acquisto sarebbe stato tutto a suo carico è lui che deve venire in Italia e magari da un altro continente per cercarsi l'accesso nell'agenzia competente però in termini di immagine di attenzione di impatto anche questo è un ritorno non è un ritorno economico ma forse da un certo punto di vista ancora più valore nella prospettiva di una partnership di lungo periodo con l'utente grazie mille investire nella formazione delle competenze e quindi FormXPR che tipo di ritorni da il mettere il cittadino al centro da sicuramente dei ritorni molto forti sia come diceva Ernesto nella migliorare la qualità delle decisioni e anche la velocità sia anche nel avere poi un momento di verifica degli effetti di queste decisioni che è ancora una fase poco sperimentata e poco attuata nelle pubbliche amministrazioni sicuramente vanno dati gli strumenti perché gli strumenti mancano mancano in molte persone che hanno visto un ingresso anni fa che hanno visto il taglio anche delle attività di formazione e di informazione a causa della spending review che voleva limitare alcuni eccessi ma che ha anche tagliato ciò che forse era necessario e quindi su questo si può riprendere ma appunto si può riprendere con le nuove tecnologie e con i nuovi strumenti spesso essere in ritardo permette di saltare dei passi saltare tanti passi e quindi aver saltato degli investimenti precedenti permette di andare subito su nuove possibilità ieri ero a Milano perché siamo stati premiati per aver dato avvia al nuovo sistema integrato del sistema gestionale in cloud non aver fatto negli ultimi 15 anni una serie di cose e quindi poter sperimentare immediatamente la nuova soluzione ci permette di non avere neanche un dubbio su quante persone non abbiamo più occupate su quel settore non ne avevamo perché purtroppo in questi 15 anni eravamo un po' in ritardo adesso siamo all'avanguardia ma così come stiamo rinnovando il sistema documentale qui la dottoressa Cornero già citata sta facendo un grande lavoro questo ci permette di avere dei risparmi sicuramente organizzativi di persone che possono saltare degli step che non devono più scansionare i documenti ma che possono immetterli direttamente ma più che altro miglioriamo nella gestione di tutte le carte che poi dobbiamo produrre a funzione pubblica a tutte le amministrazioni che ci chiedono di rendicontare i progetti perché immediatamente ce li abbiamo già pronti quindi ci sono degli investimenti che vanno fatti che sono diretti altri sono indiretti per esempio come si organizza una pubblica amministrazione quali nuove funzioni dà al front office e come questo può cambiare con investimenti che possono essere molto limitati ma appunto più che un ritorno economico io lo vedo come un investimento un investimento sulla qualità dei servizi un investimento sulle capacità che poi hanno le amministrazioni e anche della capillarità dei servizi e delle informazioni che un'amministrazione può dare in questo il Formez non soltanto attraverso la diretta di oggi ma attraverso tanti canali che ha e che sta rafforzando le aule virtuali attraverso cui vengono fatti i webinar sono aumentate e anche il numero di partecipanti aumentano quindi questo ci rafforza anche nella convinzione che quello sia un strumento positivo e il Formez è a disposizione delle pubbliche amministrazioni proprio per andare in quella direzione e anche per contribuire al piano dell'open government che appunto speriamo che abbia una nuova settimana di amministrazione aperta grazie mille beh stiamo già apparecchiando la tavola per una domanda fin troppo semplice che è cittadino al centro come motore di sviluppo economico sociale di competenze di qualità di legittimazione della pubblica amministrazione quindi di chi meglio del Mise può parlare della tematica del contributo allo sviluppo che poi fondamentalmente è il tema del ritorno sugli investimenti di centralità sì effettivamente dobbiamo vedere uno sviluppo a tutto tondo cioè con considerazione delle varie componenti certamente la cultura la digitalizzazione la banda ultralarga sono tutti gli elementi fondamentali la sfida è proprio quella di giocarli al meglio tutte queste componenti quindi secondo me questo è un momento in cui è molto necessario forse più che in altri momenti studiare molto conoscere bene la filiera perché altrimenti la coperta corta si può può risolvere alcuni problemi da una parte scoprirli completamente da un'altra quindi primo questa visione di insieme quindi mettere il cittadino al centro vuol dire veramente cominciare a vedere non cominciare continuare perché io sono convinta che delle eccellenze ci siano e da tempo però metterle a sistema forse lo sviluppo passa da lì passa proprio dal fatto che vengano messi a sistema quindi anche il nostro progetto che è questo che verrà descritto poi meglio nel pomeriggio si propone tecnicamente di andare a vedere le modalità operative quindi di arrivare anche a dei risparmi effettivi di fare un'analisi costi benefici quindi serve una fase di studio in laboratorio noi facciamo investimenti con il nostro la nostra possibilità di fare ricerca con questo laboratorio di qualità dei servizi che è molto sofisticato e ringrazio davvero i miei collaboratori perché sono appassionati più che impegnati e lo sono anche diciamo in termini di impegno senza risparmio quindi sono convinta che si debba mettere proprio a disposizione quello che volevo dire come conclusione è che adesso mi ricollego proprio alla valenza di tutte queste nostre tipi di impegno e di iniziative ci riportiamo alla fine a un concetto di eticità dell'azione pubblica cioè l'abbiamo probabilmente un po' trascurata forse c'è sempre stata era diventata un po' latente adesso abbiamo un po' la spinta a fare a scimmiottare la parte privata no la parte di public policy deve avere una sua eticità cioè stiamo ragionando di e-inclusion l'inclusione ha una valenza anche sociale una valenza etica e se è ben condotta perché c'è un impegno che consente di mettere insieme a sistema questo può portare davvero una conoscenza dei bisogni del cittadino noi abbiamo parlato del cittadino singolo ma il cittadino singolo ha problemi non solo dell'accesso ha problemi della sicurezza informatica non riesce a cambiare la password velocemente usa le password e poi lascia foglietti sul tavolo quindi dobbiamo veramente vedere una situazione un po' più larga un po' più complessa per poter capire che tipo di impegno come pubblico possiamo portare declinarlo nel modo migliore e uscire come diceva Elio Bullo con il buonsenso cioè le cose che si possono fare vanno fatte probabilmente già in molte amministrazioni questa voglia di uscire con un risultato con una cultura del risultato è già presente grazie mille trovo molto interessante questo stimolo sul superamento qui mi ritrovo con quanto diceva lei il superamento del concetto di ROI perché da aziendalista il ROI è una misura di breve periodo va a non considerare il fatto che i ritorni possono essere distribuiti nel tempo qui vediamo il tema dell'investimento come un investimento sul futuro con dei ritorni che sono non necessariamente solo di natura economica ma che possono distribuirsi nel tempo e che devono ripagare nel tempo Dulcis in fundo Elio Bullo un punto di vista su questo tema sì allora sarò brevissimo così andiamo a prenderci un bel caffettino speriamo che sia buono purtroppo qualche anno troppi anni di spending review ci hanno mortificato mortificato anche l'intelligenza che riceveva prima Pone correttamente anche l'assessora Marzano in questo caso in questo caso nel miglioramento della relazione non sono un economista quindi sbaglierò l'esempio ma l'avete capito un euro investito il ritorno è molto maggiore per quale un caso sia un euro in questo caso alcune reti sottostanti sono reti sociali reti di relazione reti di trust di fiducia che temo la PIA debba rapidamente recuperare adesso io non voglio farlo che lo so perché non lo so non è un poeta non sono messo una però se guardo a Ovest e vedo quello che sta accadendo in Catalogna mi preoccupa non voglio guardare quello che c'è a Ostia perché non mi interessa ma insomma la Catalogna mi preoccupa se una regione ricca di livello culturale elevatissimo tra le prime dieci regioni per PIL in Europa ritiene che la soluzione al problema non voglio fare politica sto ragionando sia un percorso che può arrivare Catalogna e il resto della Spagna sono in una situazione di grave criticità è una cosa che mi preoccupa mi preoccupa perché sono nato negli anni 60 ho convissuto come molti di voi non essendo più da 15 anni uno splendido quarantenne citando Moretti la fase del terrorismo e tutto quello che succede ci menavamo a scuola negli anni 70 noi ci sprancavamo tranquillamente io ero piccolo ma insomma menavo pure io e avete capito pure dove menavo la componente sociale il ruolo sociale l'IMS ce l'ha nella S ma insomma la componente aggregativa del fidarsi di un'istituzione la pubblica amministrazione fortunatamente non vive dei cicli elettorali partitici e di stemenate in televisione siamo di lungo periodo è aggregativa quindi la nostra utenza non la perdiamo perché domani vince il partito alfa o beta non la perdiamo mai non so se è un bene un male per voi ma secondo me è un bene cioè questo rapporto lungo genera ritorni di lungo periodo in cui non so chi di voi non mi ricordo più se era cincinnato ma sicuramente era cincinnato ogni tanto corre tornare nell'orto e quando uno lavora nell'orto e pianta un olivo non si aspetta di raccogliere le olive il primo anno chi di voi fa olivicoltura sa dopo quanti anni prende le prime olive da mettere sul termosifone per seccarle se fa l'uva ancora peggio questi sono investimenti di lungo periodo che però danno sostanza al tessuto sociale e civile e democratico diceva prima Belisario di un paese noi siamo un paese che ha una storia lunghissima siamo civili nati con qualche uscita strana di qualche mentecatto che dovremmo diciamo eliminare ma cerchiamo di stare qua dentro e di giocare come amministrazioni e quando ci giriamo e siamo utenti il nostro ruolo perché siamo uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea la componente Unione europea aggiungiamo perché ci piace e fa benissimo stare qua dentro è fondamentale chiudo con una cosuccia l'altro giorno non mi ricordo in quale luogo mi trovavo si era su Facebook con un mentecatto che mi diceva che il modello foglia di questo paese era inadeguato io in genere non partecipo ai dibattiti con i cretini perché perdi sempre però stavolta ho detto scusami ma mi dai modelli interessanti i due modelli che citavo erano di due autocarli non era tanto il foglia l'argomento era tutto deve essere trasparente qualunque cosa ho detto guarda i luoghi in cui tutto è trasparente mi pare si chiamino ti faccio l'elenco la Russia di Vizinski e quindi di Stalin penso alla Corea del Nord attualmente e qualche autocrazia sarà bellissimo bacia vivere te voglio vivere in questo paese noi stiamo da questa parte del mondo ebbene cerchiamo di stare di costruirci questa parte del mondo grazie mille grazie a tutti i panelist che ripeto per vero ringraziamento Ernesto Belisario Rita Forsi Elio Gullo Marta Leonori Flavia Marzano e Antonio Pone diciamo che questa sessione lascia un lascito decisamente importante per le successive che mi permetto di sintetizzare così il tema della centralità del cittadino all'interno delle politiche pubbliche è un tema di trasparenza sì sotto certi punti di vista di ruolo democratico di accompagnamento di una popolazione nell'epoca per esempio del mercato globale il ruolo di guida della pubblica amministrazione in questo è fondamentale e quindi la sua capacità di interagire meglio con il cittadino è il fattore critico di successo vedremo nelle prossime sessioni come si può fare nella pratica grazie a tutti grazie